Noi siamo proprio contrari perché non è soltanto il problema del diritto del singolo cittadino a esercitare il diritto alla salute, non è soltanto questo in discussione. Il rischio è di cancellare un'idea della democrazia. La nostra democrazia si fonda su principi costituzionali che prevedono davvero di poter essere padroni del proprio corpo, della propria salute, della propria vita. La privatizzazione della salute produce un aggravio dei costi per il pubblico come si vede negli Stati Uniti d'America e produce una ferita, una lesione insanabile appunto a un diritto fondamentale dei cittadini.